annunciazione annunciazione ve lo ricordate quella che era erano truisi e benigna annunciazione annunciazione il corriere della sera oggi fa un titolo che veramente non vi aspettate allora mettiamoci un attimo a guardare l'emeroteca dei titoli del corriere della sera qual è il titolo che oggi ti aspetti dal corriere della sera riguardo al governo titolo in prima pagina scontro all'interno del governo e che probabilmente avverrà davvero però a forza di scontri questi hanno fatto i primi sei mesi male hanno fatto la finanziaria male hanno governato insieme male eppure stanno ancora insieme cioè questo scontro del governo sembra quello che gli americani definirebbero un wishful thinking cioè questi continuano a dire che c'è lo scontro all'interno del governo sì ci sono gli scontri all'interno del governo è negabile che ci siano e i retroscenisti ogni tanto ci prendono però insomma diventa anche un po leziosetto leggerselo tutti i giorni il motivo per il quale ci saranno c'è lo grande marcellone vedi che si rivede il motivo per il quale oggi c'è lo scontro all'interno del governo è perché Di Maio avrebbe detto insieme a Conte che si sarebbero potuti portare a casa i bambini e le donne che sono oggi bloccate in una di queste navi delle ONG tedesche che girano per il Mediterraneo sono 40 persone circa e di queste una parte sono donne i bambini che si sarebbero potuti sbarcare cosa che Di Maio e che Salvini ovviamente non vuole accettare che ieri stesso dice che non vuole assolutamente che avvenga ma la stessa cronaca del Corriere della Sera ci ricorda come il vecchiere dall'altra parte è mezzo pieno perché nel giorno in cui c'è questo sua dison scontro all'interno del governo su come gestire questi barconi dall'altra Di Maio dice che i sindaci e a beneficio anche della sua fronda interna devono stare zitti e buoni sulla questione del decreto sicurezza e le leggi si applicano e che lui quel decreto l'ha votato lo condivide e quindi ha rinsaldato il partito che mi sembrava un po' sfilacciato almeno a leggere alcune dichiarazioni dei dissidenti proprio sul decreto sicurezza allora da una parte c'è decreto sicurezza con Di Maio che fa una nota durissima dicendo dobbiamo appoggiarlo e dall'altra c'è una differenza di vedute sulle navi scontro all'interno del governo e se vi leggete la Sarzanini oggi che viene dedicata al fondo capirete un'altra cosa che in realtà non moriremo tutti i democristiani no se noi dovessimo leggere soltanto il Corriere della Sera moriremo sempre mielisti cioè da quella pessima idea del ciao Federica del Corriere della Sera di non prendere mai una posizione il che va bene se dà il senso dell'oggettività della della vita ma non è oggettivo il Corriere della Sera il Corriere della Sera è il partito del Corriere della Sera è il partito dei professori è il partito degli esperti è il partito dei competenti era il partito un tempo della borghesia chic e di sinistra di Milano che oggi si è come possiamo dire accasata con Boeri con Monti non c'è un giudizio di valore ma è un voglio dire un milio che bisogna riconoscere al Corriere della Sera nel suo bene nel suo male beh la Sarzanini che morirà non democristiana ma mielista ci spiega oggi che fanno male i sindaci a contestare le leggi di Salvini ma fa anche male Salvini ad avere un rapporto un un eloquio un modo di fare così poco istituzionale e ma non funziona così perché il punto è che se mi posso permettere le due cose non sono sullo stesso piatto della bilancia un sindaco che fa delle cose illegali non rispettando un decreto votato dal governo vagliato dal presidente della repubblica vagliato dalla maggioranza parlamentare un sindaco che non fa quello è un criminale cioè sta mettendo un crimine se dovesse farlo un ministro che si presenta con una felpa della polizia dei vigili urbani e di perino è magari non divertente non istituzionale cossigliano ma non sta mettendo un illecito i due piani sono un po diversi un un ministro di interni che dà dei traditori ai sindaci che che tradiscono appunto la legge italiana nel non rispettare il decreto sicurezza è rituale e ripeto cossigliano può starci antipatico ci possiamo fare 15 fondi dicendo come il Corriere ha fatto spesso dicendo ma non lo metti sullo stesso piano di un sindaco che non rispetta la legge non ci vuole voglio dire il come possiamo dire picco della mirandola per capire questa cosa basterebbe leggere ricolfi oggi sul messaggero che dice una cosa molto semplice e cioè ricolfi sul messaggero oggi dice cari amici della sinistra del pd non avete capito un cavolo perché se l'opposizione a questo governo lo fate con i sindaci che non rispettano le leggi e soprattutto con orlando con orlando uno che gestisce una città in quella maniera con De Magistris cioè dove vogliamo andare forse il Corriere della Sera ricorda tutte le velleità in questo molto interessante il suo pezzo del partito dei sindaci da quelli che ci eravamo innamorati anzi io per niente vi ricordate i sindaci arancioni De Magistris la rivoluzione ma che rivoluzione i peggiori sindaci che abbiamo avuto nel frattempo c'è questa nave che vaga per l'europa anzi per il mediterraneo che è diventato un grande caso internazionale questo grande caso internazionale perché ci sono 40 disperati che cercano di approdare in Europa hanno un biglietto d'ingresso in Europa hanno un visto hanno un diritto d'asilo sono dei perseguitati no non è detto saperlo anzi secondo il reportage così lo possiamo definire di Marta Serafini e di Repubblica Marta Serafini è il Corriere di Repubblica molto più sobrio Repubblica molto più fattuale Marta Serafini mi veniva da piangere avete presente piangere quando lo leggevo avete presente come parla la Boldrini cioè quel tono di voce che c'è la Boldrini applicatelo alla scrittura e leggete Marta Serafini Marta Serafini sarà una grandissima professionista una straordinaria professionista e oggi però ci spiega due cose che queste persone stanno in una condizione disagiata e devo dire che uno che sta 40 giorni in una barca e ha fatto di tutto per arrivare in Europa è una situazione disagiata forse con la sua logica no della festival del giornalismo di Perugia dove questi cazzo di nostri inviati embedded sono e si formano e spiegano cosa vuol dire il giornalismo forse ci si rende conto che si è abbastanza disagiata la situazione di persone che stanno in quella nave quando li porteremo in Italia grazie a queste polemiche che stiamo facendo invece la loro situazione si capovolgerà sarà una situazione favolosa perché Marta Serafini e il Corriere della Sera troveranno loro un lavoro troveranno loro un occupazione troveranno loro un alloggio troveranno loro una situazione dignitosa per vivere ma la cosa sostanziale è che queste persone che lei ha intervistato in questo reportage embedded sulla nave dei disperati che non è quella della di Raspeil non è quella della città dei santi è una nave di 40 persone uno di questi è un egiziana è un egiziano allora io mi chiedo ma scusatemi ma egiziano che sta su una barca su un barcone è passato per la Libia è stato torturato tremendo una storia pazzesca ma cosa c'entra all'egiziano con una persona che ha bisogno di protezione umanitaria e asilo politico egiziano l'altra persona che ha intervistato Marta Serafini è una mamma che è scappata dal dal posto in cui vive perché il papà della bambina con cui lei la minacciava allora non è il sistema che la minacciava era il papà che minacciava la mamma Marta Serafini che è molto sensibile alle questioni di genere sa che questa cosa avviene anche in Italia allora direi una cosa le mamme italiane che sono minacciate dai mariti e che vengono menate qualche volta uccise stuprate in famiglia sapete che cosa devono fare devono prendere un barcone e andarsene in America andarsene in Francia andarsene in Germania cioè io dico è questa la soluzione ma io la trovo una roba guardate non avete idea leggetevelo leggetelo e poi questi medici eroi pensate un po' voi non hanno dormito più di cinque ore a notte succede quando si lavora ma comunque andiamo sulle altre cose diciamo un po' più serie l'Inps e l'Inei vengono commissariati e poi viene ristabilito secondo le indiscrezioni oggi dei giornali un consiglio d'amministrazione quindi per far fuori Boeri noi che cosa facciamo facciamo fuori Boeri e facciamo un bel consiglio d'amministrazione che probabilmente verrà guidato dal professor Trivico un comunista allora io sono oppure c'è anche il nome di questa calderone oggi sui giornali chiede consulenti del lavoro mi sembrerebbe molto meglio molto più aperta ma la cosa straordinaria che io mi chiedo e vi dico ma non era il periodo in cui c'era l'uomo forte al governo che diceva cerchiamo di mettere le persone che facciano che decidano che risolvano qua rifacciamo un consiglio d'amministrazione con sei stipendi sei segretarie sei stanze per gestire l'Inps guardate che io trovavo molto giusto che ci fosse una sola persona nel bene e nel male che si comportasse in una certa maniera Boeri non vi piace? Lo fate fuori legittimo Boeri piaceva a Renzi? Mettetelo dentro cioè ci sta nel mondo se poi non vi piace e siete convinti che non vi farà fare il reddito cittadinanza come volete voi lo fate fuori e ci mettete un'altra persona ma inventarsi il consiglio d'amministrazione se l'avesse fatto Mastella l'amico Mastella avrebbero detto è la solita cosa della prima repubblica no invece se lo fanno Salvini e Di Maio è perfetto ma insomma io la trovo un po' ridicola intervista Mimmo Parisi professore del Mississippi che si è inventato i navigator qua lo dico e non lo nego sabato 5 gennaio 10.53 sabato 5 gennaio 2019 speriamo di ricordarcene faremo una grande risata su questa minchiata dei navigator oggi sul fatto quotidiano vedete il ruolo dei navigator e ci sono queste specie di 5.000 maghi che dovrebbero questi maghi dovrebbero adottare 100-150 persone senza lavoro a Reggio Calabria, a Cosenza, a Brescia, a Bergamo e dovrebbero fargli capire quali sono le loro aspirazioni dovrebbero fare un dashboard delle loro aspirazioni e nel frattempo dovrebbero lavorare con le imprese per metterli in contatto ma io dico ma ci voleva così poco? cioè bastava inventarsi questi navigator e avremmo risolto il problema delle esicolazioni italiane ma siamo veramente dei cazzoni ma non ci avevamo pensato che potevamo fare il navigator col dashboard e la supercazzola ormai la supercazzola di amici miei si chiama dashboard allora facciamo il navigator col dashboard e abbiamo risolto il problema dell'occupazione in Italia che cretini abbiamo dovuto prenderci Mimmo Parisi dall'università del Mississippi Mississippi Mimmo Parisi Navigator e abbiamo risolto i problemi dell'Italia basterebbe forse sempre andare negli Stati Uniti ma non nel Mississippi ma a Washington e cercare di prendere un po' più sul serio quello che noi abbiamo considerato un minus abens cioè il Presidente della Repubblica americana che veniva descritto come un incapace che avrebbe creato delle guerre mondiali, che avrebbe distrutto l'economia americana che twittando ogni mattina faccia dei casini che Trump sia un incapace è fuori dubbio che sia falso che sia un personaggio insopportabile, lo è altrettanto, io lo trovo insopportabile ma che lui abbia adottato una ricetta semplice, banale cioè di ridurre le imposte per aumentare la produzione beh questo insomma mi sembra che sia acclarato oggi solo le 24 ore ci dà un piccolo bilancio di un anno lo fa ma ovviamente non come lo sto facendo io è nelle righe perché come si può considerare Trump un po' meglio di quello che ce l'hanno descritto cioè una merda negli ultimi anni beh ma sapete che cosa ha fatto Trump nel 2018? sapete cosa ha fatto? 2.600.000 posti di lavoro in più 2.600.000 posti di lavoro in più in un anno, in un anno la disoccupazione è ai minimi da 50 anni al 3,9% è un po' cresciuta a dicembre, sapete perché? perché come è noto allo stesso solo le 24 ore c'è più gente che adesso ci crede e quindi si mette alla ricerca del lavoro perché dice beh si può fare loro hanno un problema di piena occupazione perché il 3,9% di disoccupazione è la disoccupazione frizionale tra il perdere e riprendere un lavoro allora il punto vero è la critica vera che si dovrebbe fare a Trump non è se la sua ricetta è sbagliata non è se twitta troppo è quanto è sostenibile questa politica economica di Trump questo è il punto fondamentale Trump riuscirà a portare nei prossimi tre anni, quattro anni continuare a portare su questo livello l'occupazione negli Stati Uniti per ora quello che si può dire è che il bilancio è di un paese che cresce ma soprattutto la cosa fondamentale che oggi solo le 24 ore certifica col bollino è che questo signore che tanto prendiamo in giro ha creato 2,6 milioni di posti di lavoro in un anno lo troviamo scritto da qualche parte? poco, poco e niente bene ciao Elvira, ciao Carolina Giuseppe Caputo appena ora si è e Boris go Trump! bene direi una cosa disoccupazione degli idioti che non sanno trovarsi un lavoro necessitano grulli arrandomanti benissimo io direi che per oggi è tutto noi ritorniamo come sempre il lunedì con Quarta Repubblica mi raccomando non ve la perdete in prima serata a Rete 4 vorrei invitare Salvini per vedere se mi risponde a questi sindaci e come sei un ciarlatano Francesco Russo mi dice ma sempre forse sei lo stesso sei lo stesso mi ci sto affezionando buongiorno a Françoise Rossana la cava è appena in collegamento con noi ma io sto finendo se vi piace mi raccomando condividetelo perché su Facebook le condivisioni delle pagine dei video sono fondamentali per allargare un po' la nostra zupparella sul sito nicolaporro.it e tutte le altre informazioni ciao